dopo aver finito di lavorare al ristorante sono andata con i miei amici nel bosco a giocare al gioco il gioco dell'assassino ci sono dei biglietti solo due sono segnati con una lettera c'è quello con la p che del poliziotto che darà il via con il suo inseparabile fischietto nessuno sa chi è l'assassino la persona da cui si deve scappare bene ma c'era qualcun altro quella sera toni no perché kirk ormai è morto non so come avrei potuto deciderlo era così bravo e gentile buono e dolce e io l'amavo ho deciso troverò il colpevole grazie grazie grazie